Ciao ragazzi, sono qui per parlarvi di smartwatch. Sono qui per parlarvi del modello della 257, il telefono smartwatch DZ09D. Un telefono rapporto qualità-prezzo decisamente ottimo, perché comunque con pochi euro vi portate a casa uno smartwatch con tutte le funzioni. Andiamo a vederlo! All'interno della confezione trovate il libretto delle istruzioni. Vi do un consiglio, andate direttamente sullo smartwatch e cercate il QR code tramite l'app. Scansionatela con il vostro smartphone e voilà, avrete direttamente l'applicazione subito con un click, in modo tale da sincronizzare perfettamente il vostro smartwatch al vostro smartphone. Facile no? Vale l'acquisto di questo smartwatch? Sicuramente per il prezzo è un ottimo pensiero per un compleanno, un regalo di Natale o un altro tipo di ricorrenza. Non vi aspettate un grandissimo prodotto. Sicuramente esteticamente si presenta come un ottimo prodotto, però è molto grossolano a livello di funzionalità. Alla prossima!